Prosegue con 900 napoletano in scena giovedì 17 gennaio alle 21 presso la sala truffo della cittadella del cinema di Giffoni Valle Piana, l'undicesima stagione invernale di Giffoni Teatro. Gennaro Cannavacciuolo sarà capo di una compagnia di oltre 50 elementi diretti da Bruno Garofalo, tutti protagonisti di un piacevole viaggio tra un mondo indimenticato ed una coinvolgente confusione di sentimenti che accomuna un po' tutti i napoletani. Lo spettacolo si offre come un'edizione aggiornata che porta a teatro l'anima più profonda della storia della canzone classica napoletana eseguita nella sua filologia più accurata e l'immagine più profondamente poetica ed appassionante della tradizione musicale napoletana che da decenni ha rappresentato la canzone italiana nel mondo.